Il Ministero delle Infrastrutture ha ufficialmente detto sì all'arretramento della ferrovia nel comune di Pesaro destinando una fetta dei 5 miliardi stanziati, ma il cosiddetto bypass che allontanerebbe i binari dalla costa in cui il sindaco Ricci punta a creare un passante verde si fermerebbe a Fosso Seiore. Ricci infatti applaude a una svolta storica che cambierà il profilo della città ma auspica di poter includere anche i comuni limitrofi in una visione strategica più funzionale. Già perché ad oggi il Ministero ha rifiutato la proposta di includere nell'arretramento anche il tratto ferroviario compreso fra Fano e Mondolfo perché è reputato non necessario al potenziamento dell'alta velocità e dell'aumento del carico merci. Idem per diversi altri comuni delle altre province marchigiane che vedono bocciata l'idea dell'arretramento. Questo è quanto emerso oggi dall'incontro in regione fra il governatore Acquaroli e l'assessore all'infrastruttura Francesco Baldelli che hanno accolto sindaci e amministratori di tutta la costa marchigiana coinvolta dagli oltre 5 miliardi investiti dal governo per potenziare la linea ferroviaria Bologna-Taranto. Scelte che lasciano perplessi tanti amministratori a cominciare dai sindaci di Fano e Mondolfo, Massimo Seri e Nicola Barbieri che invocano una visione condivisa fino ai vertici della regione che chiedono un incontro col Ministro Giovannini invitandolo nelle Marche a valutare la specificità dei territori. Noi dobbiamo restare agganciati nel dialogo istituzionale perché sono convinto che il Ministro e il Ministero saranno anche aperti a comprendere quelle che sono le legittime preoccupazioni. Mai mi è capitato in un percorso politico che ormai comunque io svolgo da qualche anno di vedere l'unanimità di una riunione che coinvolge tutti i sindaci partendo da Gabiccio e arrivando a San Manetto del Tronto. Questo significa che la mia non era una preoccupazione, la nostra non era una preoccupazione avventata ma è una preoccupazione condivisa da tutte le comunità. A preoccupare è soprattutto il fatto che il potenziamento della linea comporterebbe un vertiginoso aumento di treni merci reputato insostenibile sulle linee ferroviarie attuali. La stima è di avere 176 treni merci in transito ogni giorno, ovvero un treno ogni 8 minuti per 52.000 treni merci l'anno. È chiaro che chi compie una scelta da una visione non centrale, da una visione non condivisa del territorio può fare una scelta che a volte non è comprensiva di tutte le sfaccettature che invece noi viviamo. L'impatto di una linea ferroviaria o meglio di un traffico ferroviario merci così forte sul nostro territorio può sicuramente essere rilevante sotto l'aspetto della vocazione turistica, della vocazione commerciale, della vocazione residenziale di tantissime delle nostre città. Il punto di equilibrio è nel cercare di comprendere che non si può far passare in una linea ferroviaria costruita nel 1800 per il traffico passeggeri e merci, il traffico che nel 2022 fino al 2040-2050 dovrà essere garantito per tenere il Mediterraneo e l'Italia e l'Europa agganciato al mondo. È chiaro che se si vuole coinvolgere in questi territori, in questa linea, quel tipo di traffico bisogna adeguare la linea affinché possa essere compresa in una visione che tiene conto dei posti dove questa linea oggi è ubicata. Rispetto alla possibile ricollocazione della linea adriatica, che è quello che noi chiediamo, noi vogliamo ascoltare i tecnici e il Ministero, non abbiamo una soluzione precostituita. Quello che vediamo è che il numero di treni che oggi è previsto e il numero di treni che è previsto in futuro va a confliggere fortemente con le nostre località turistiche, balneari, con le nostre città che sono dislocate lungo la costa. Il sì della regione a potenziare la linea ferroviaria attraverso l'arretramento è contestuale al secco no alle barriere antirumore. Io credo che la barriera antirumore diventa in questo caso un muro che divide le città, è un muro che divide le città e che ne stravolge la conformazione anche dal punto di vista climatico. C'è una preoccupazione profonda perché poi queste barriere sarebbero molto impattanti, parliamo di barriere alte 6 metri e mezzo, 7 metri, 8 metri, sono molto più alte della media delle abitazioni che poi ne abbiamo nelle nostre città dislocate sulla costa.